I diritti in diretta in collaborazione con CGL, Inca, Teorema Buonasera, ben ritrovati al consueto appuntamento del lunedì, stasera andiamo in onda in una forma leggermente diversa, sto bene, non ho nessun problema, ho avuto un contatto con un soggetto che si è positivizzato, sono in attesa di fare il tampone, quindi ci teniamo separati, continuiamo a fare anche stasera la nostra diretta, voi dovete seguire consuete abitudini, telefono e whatsapp come sempre, in studio invece c'è Vivian Zannoni che saluto e che è lì un po' solo e abbandonato ma c'è, e quindi siamo connessi dal lettere, e le domande le porremo a lui e cercheremo come dire di costruire insieme all'interesse dei telespettatori quelli che sono i temi legati come di consueto alle situazioni previdenziali e assistenziali. Apro subito per dar conto del fatto che giovedì mattina sono partite le procedure telematiche per le richieste dei congedi parentali straordinari legati all'emergenza Covid, le colleghe anzi che se ne occupano stanno lavorando celermente ma non scade nulla, quindi se avete fatto la segnalazione semplicemente attendete che la procedura venga effettuata e vi venga data la copia da presentare al datore di lavoro, se ancora non lo avete fatto potete fare la segnalazione perché come dire tecnicamente siccome sono retroattive una volta costruita la modalità c'è modo assolutamente di recuperare la domanda se i criteri sono rispettati. Io passerei subito da Vivian, non so se hai dei temi Vivian da portare all'attenzione nell'immediato, io te lo lascio fare, nel senso che così partiamo un po' anche con la cronaca virgolette, novità non ce ne sono, però sono sicura che ci siano come dire delle situazioni di novità che vuoi eventualmente segnalare ai telespettatori. Sì, in effetti novità nel senso di norme o interpretazioni recenti che meritino la nostra attenzione di fatto non ce ne sono, però continua la discussione sui temi che abbiamo già più volte accennato, anzi sembra che su alcuni punti si stiano mettendo le cose in un modo un po' diverso da quello che pensavamo, ad esempio opzione donna, abbiamo ricordato tantissime volte come in questo momento noi stiamo gestendo delle situazioni per coloro che hanno maturato i requisiti entro il 31 dicembre del 2020, quindi parliamo di una proroga per il 2021, ma in verità è appunto 2020, è l'ennesima proroga perché la cosa ormai da diversi anni si trassina di anno in anno, ma fra le ultime voci che stanno circolando c'è quella di rendere o addirittura strutturale l'operazione di opzione donna o di prorogarla comunque fino al 2023, quindi probabilmente tutti coloro che stavano sperando di arrivare o facendo i salti mortali per arrivare al diritto al 2020 o tutt'al più nel corso del 2021 pur con tutte le incertezze, forse avranno qualche spiraglio in più, qualche speranza in più per poter entrare in questa logica, anche perché soprattutto nel settore privato che oggi vede la massima attenzione in questa direzione per tutte le vicende legate in qualche modo anche a Covid, le condizioni di lavoro non sono più quelle di prima, la voglia di chiudere è diventata molto rilevante, le perdite non sono più così significative come un tempo, quindi c'è un'attenzione abbastanza accesa che potrebbe essere soddisfatta da questi elementi di novità. Così come nonostante nell'ultimo testo del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza sia scomparso un riferimento specifico alle vicende previdenziali, ma sappiamo benissimo che anche quel piano è in qualche modo condizionato alla realizzazione di una serie di interventi riformatori, fra i quali ci è stato chiesto più volte e abbiamo detto che lo avremmo fatto, la chiusura di quota 100 nonostante qualche polemica di troppo che stia circolando, però ci sta anche in questa direzione lavorando molto su ipotesi di costruire percorsi di uscita per quei lavoratori che hanno delle difficoltà, chiamiamole così in termini generali, quindi non interventi generalizzati come è stata quota 100, ma interventi mirati a dei lavoratori che o per condizioni individuali o per condizioni lavorative o perché sono impegnati in attività di assistenza di anziani possono accedere appunto a delle prestazioni tipo app social che sempre più sta diventando come una delle ipotesi di lavoro per il futuro, quindi queste sono le cose sulle quali si continua a discutere e probabilmente avremo fra non molto qualche novità. Quindi incentrato soprattutto sulle fragilità, l'avevano già detto, insomma che diventano come dire un po' il meccanismo che dovrebbe procedere ad arrivare alla pensione prima degli altri, insomma fondamentalmente questo è un po' il senso delle cose. Ti faccio una domanda che è arrivata come messaggio, ma credo che sia importante perché stiamo cercando di dare segnali nella costruzione delle posizioni assicurative in funzione del fatto che uno non arrivi troppo vicino alla pensione con una posizione che non lo soddisfa dal punto di vista né dell'importo né della costruzione del requisito. Questo signore in particolare dice io ho un salario che potrebbe attestarsi o comunque fa riferimento ad una persona che può attestare un salario attorno ai 450-500 euro netti al mese. Quindi la domanda è, e te la lascio sospesa un attimo e prendo la telefonata, pensiamo a cosa dire a questo telespettatore su come costruire il diritto. Prendo intanto la chiamata, pronto? Pronto? Non sento la chiamata. Buonasera a lei. Senta, volevo sapere un'informazione riguardo la NASPI. Ma per tutte le NASPI che scadranno dopo, diciamo, a febbraio, perché mi hanno detto che dopo febbraio si poteva fare il REM di tre mesi, mi sembra. Se uno gli scade, diciamo, tipo settembre, ottobre, la può fare sempre questa domanda di REM? Allora, non quella di questo decreto, grazie a lei, grazie a lei molto gentile della domanda, non quella di questo decreto, perché questo decreto è legato ad una situazione di questa parte dell'anno. Se sarà prolungato per effetto del fatto che, come dire, le situazioni economiche non si ripercorreranno nel modo consueto e quindi sarà necessario interagire di nuovo, vedremo se il decreto legge interagirà anche su quelle procedure. Per il momento ci si ferma, come lei ha detto, ad una situazione che deve essere già terminata. Hanno ovviamente prorogato, e qui ne approfitto, la presentazione della domanda al 31 di maggio. William, sulla proroga al 31 di maggio possiamo dire proprio due cose che sono importanti, perché insomma alla fine si doveva fermare al 30 di aprile, ma anche il REM è stato posticipato, per cui tutto si è consolidato al 31 di maggio insieme ai bonus e agli interventi di sostegno al reddito. Sì, certo. L'Inps stavolta ha fatto la parte dell'agnello, nel senso che si è fatta protagonista anche di un confronto col Ministero del Lavoro per concordare appunto un slittamento dei termini, perché un po' l'emergenza, un po' il fatto che lo stesso Inps non aveva predisposto per tempo tutte le procedure e le norme non erano così chiarissime, le sono state via via meglio approfondite, si è convenuto, d'accordo il Ministero del Lavoro appunto, di far slittare tutti i termini fino al 31 di maggio. Quindi tutte quelle sollecitazioni che avevamo ricordato, che anche Silvano ricordava nelle puntate scorse, di fare le domande entro il 30 aprile, siamo tranquilli, abbiamo tempo adesso fino al 31 di marzo. Approfitto però per entrare rispetto all'argomento della domanda, giustamente Cinzia ricordava appunto che in questo momento stiamo decidendo e gestendo posizioni di coloro che già hanno chiuso i periodi di naspi e quant'altro, però rimaniamo attenti a tutta la discussione che è aperta rispetto alla riforma degli ammortizzatori sociali, perché al di là dei decreti, ristorio, riaperture varie legate alla vicenda Covid, c'è soprattutto la partita chiusura del periodo di divieto di licenziamento e modifica dell'impianto degli ammortizzatori sociali che potrebbe intervenire in modo significativo anche su queste posizioni. Si sta mormorando di o allungare il periodo di naspi oppure in altri casi modificarne gli importi, però ci saranno sicuramente anche in questo caso delle novità, anzi queste saranno sicuramente precedenti, quelle che riguarderanno la parte previdenziale e entro giugno dovremo definire una serie di partite. È giusto, io tornerei però alla domanda che ti avevo posto prima, riferimento a quel salario di netti 450-500 che diceva giustamente il telespettatore sono sufficienti per maturare il diritto a pensione, cioè come si sviluppano dal punto di vista della resa, perché alla fine è la resa previdenziale che ci interessa capire in questo caso? Numeri così diventa difficile trattarli, anche perché non dimentichiamo che oggi la pensione riflette non tanto il riferimento come accadeva diversi anni fa alle retribuzioni dell'ultimo periodo, ma riflette una situazione che va a leggere di fatto tutta la storia della vita lavorativa, in particolare ormai dal 1993 in poi sicuramente, ma in alcuni altri momenti anche per periodi precedenti. Quindi dire esattamente che cosa potrà significare in termini pensionistici a fronte di una retribuzione di questa natura è abbastanza difficile. Certo, con una retribuzione di questo tipo c'è anche un rischio di non rispettare il minimale contributivo per la copertura intera previdenziale, cioè non dimentichiamo che noi abbiamo un problema, noi vediamo spesso e volentieri negli estratti contributivi 52 settimane se abbiamo lavorato l'intero anno, ma non è scontato che quelle 52 settimane siano settimane interamente utili, anzi nei casi come questo che stiamo eventualmente valutando dove la retribuzione non è sufficiente alla copertura integrale non c'è immediatamente la riduzione del numero delle settimane, ma c'è un segnalino che l'Inps negli estratti conti fa dicendo guarda che in alcuni casi ci può essere questo problema. Quindi posizioni di questa natura vanno verificate attentamente per capire se anche gli obiettivi in termini di calendario che ci eravamo posti per accedere al pensionamento possiamo continuare a rispettarli, quindi non solo l'importo ma anche il diritto potrebbe essere messo in discussione. Sì, anche perché quando noi riportiamo il salario, riportiamo un salario che è un salario lordo, in realtà il lordo previdenziale è un pochino diverso, quindi non è che quel lordo è nell'effettività il lordo previdenziale che serve per la valutazione del diritto a pensione, però quello parrebbe un importo basso, quindi parrebbe non rispettare come dire l'ordinativo che mi consentirebbe di avere le 52 settimane all'interno della posizione assicurativa, quindi sono vere una serie di considerazioni che vanno assolutamente fatte e che vanno fatte nella misura in cui il lavoratore deve riempire quell'anno e poi anche a seconda del tipo di sistema di calcolo è importante, quindi il consiglio che diamo a questo signore ma alle situazioni analoghe dove non c'è probabilmente rispetto del minimale, crediamo che nella valutazione complessiva del diritto si debba entrare nel merito della costruzione significativa proprio della posizione assicurativa, però ti faccio una domanda perché poi i messaggi qui continuano ad arrivare, io te li pongo, non vedo telefonate quindi procedo con i messaggi da casa, questa signora lavora part time a 56 anni, dice ha cominciato a lavorare nell'anno 1993, è una dipendente privata e ha 15 anni di contributi, lui dice per avere diritto alla pensione mi bastano i 20, sono sufficienti 15, come possiamo gestire la questione? Cioè come possiamo dargli conto della costruzione di un diritto a pensione? Adesso diciamo che non abbiamo indicazioni sulla composizione ma avendo cominciato nel 93 non ha certamente 18 anni al 92 quindi possiamo 15, possiamo procedere con la costruzione dei 20, ti lascio ragionare sulla posizione così proviamo a svilupparla. Allora sgompriamo subito il campo da un argomento, il diritto a pensione con soli 15 anni di contributi ormai ce l'hanno pochissimi soggetti, ce l'hanno coloro che avevano già i 15 anni maturati appunto al 92 ma in questo caso avendo cominciato a lavorare dopo ovviamente non ci sono, ce l'hanno i lavoratori non vedenti, i ciechi sia assoluti che decimisti hanno mantenuto per effetto della riforma Mato il vecchio requisito contributivo e di età anagrafica previsto fino al 92, ce l'hanno in via marginale anche alcuni che erano stati autorizzati ai versamenti volontari in tempi molto remoti ma anche qui ormai si stanno riducendo drasticamente. Oggi l'obiettivo è 20 anni o in alternativa ma solo per quelli che hanno lavorato dopo il 95 quindi mai lavorato da nessuna parte fino al 31 dicembre 95 iniziato nel nuovo sistema contributivo in alternativa il diritto a pensione è costruibile con solo 5 anni di contributi ma all'età in questo momento di 71 anni, non quella normale dei 67 che conosciamo per la generalità ma 71. Quindi con soli 15 anni ahimè dobbiamo lavorare ancora o fare in modo o con versamenti volontari o recuperando altri periodi di porci l'obiettivo dei 20 perché senza i 20 ahimè non portiamo a casa assolutamente niente. Quindi è importante, adesso qui abbiamo una posizione che ovviamente non ha presumibilmente i 20 anni contributivi ma vedremo come costruirli insieme perché se sta ancora in attività lavorativa o se in ogni caso c'è la possibilità di fare un aggiustamento diversamente volontari piuttosto che costruire dei rapporti di lavoro a tempo determinato è possibile. Tra l'altro William io te lo faccio lanciare perché questa è una moda che secondo me potrebbe tornare di moda. Le giornate agricole in qualche modo producono dei benefici, io te le lascio dire perché si fa fatica e andare a fare giornate agricole ma ci sono poi dei benefici proporzionali sullo sviluppo della posizione che possono avere degli interessi soprattutto per quelle donne che non hanno magari neanche ancora i 20 anni o sono distanti anche nella costruzione dei 35 per esempio. Certo, le giornate di contribuzione agricola sono spesso importanti perché anche se non svolte in misura così consistente possono dare diritto di nuovo non alla NASP in questo caso ma alla vecchia disoccupazione agricola che è comunque in grado di garantirci le coperture per l'intero anno o in alcuni casi se c'è proprio bisogno di costruire una posizione per determinate esigenze anche fare i versamenti volontari integrativi agricoli per arrivare a riempire l'annata in modo contributivo ma soprattutto quando noi ci troviamo a delle posizioni agricole dove ci sono delle giornate che sono addirittura eccedenti rispetto a quelle necessarie per la copertura contributiva ci sono dei meccanismi tali per cui possono spalmarsi nell'arco della capienza assicurativa da quando ho cominciato a lavorare fino alla fine del mio periodo in prossimità della pensione che possono avere degli effetti particolarmente rilevanti. Poi è chiaro per ricordarci anni fa un tempo c'era anche il meccanismo di comprare le giornate agricole che non era chiaramente un meccanismo corretto però era una prassi molto in uso o anche ad esempio la lavoratrice o il lavoratore che faceva comunque un'attività ma non così consistente che concordava in qualche modo di arrivare ai minimi necessari per poi accedere alle prestazioni. Spesso e volentieri queste storie di contribuzioni agricole ci danno delle sorprese in positivo che non avremmo mai immaginato quindi il messaggio fondamentale è che comunque si faccia qualcosa in qualunque posto si vada a lavorare verificare che ci siano gli adempimenti contributivi corretti perché poi una volta versati i contributi presto tardi ce li possiamo poi ritrovare utili ai fini delle nostre prestazioni. Molto bene, prendo la telefonata che c'è in linea. Pronto? Pronto? Sì, buonasera. Buonasera, chiamo da Cabriago. Io volevo alcune delucidazioni di questo tipo. Mia moglie è in pensione di invalidità del 2017 pur continuando a lavorare e ha già fatto la visita dopo i tre anni di invalidità, non ha ricevuto niente dall'Inc però continua a ricevere la pensione. chiedevo deve fare un'ulteriore visita perché gli venga riconosciuta definitivamente oppure passati sei anni è riconosciuta? Mi dà solo un'indicazione, si tratta di una pensione contributiva o di un'invalidità civile? Allora mia moglie è stata riconosciuta al 104 e poi dopo abbiamo fatto la domanda di invalidità ed è stata riconosciuta. Prende la pensione regolarmente. Però ci sono due tipi di pensioni, c'è quella civile che ha un importo che una volta era circa 290 euro. No, 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 è riconosciuta come in base agli anni di servizio. Ok, perfetto. Quindi è l'assegno ordinario di invalidità che ha dato... Aspetta, sì, l'assegno ordinario. Poi chiedevo una cosa. Una volta che lei raggiunge, perché adesso avrebbe 39 anni ad aprile di servizio e quindi per arrivare a 62 anni, quando è che può essere sicura magari di andarsi anche di vecchiaio oppure che non gli venga più tolto niente. E gli anni che sta, i contributi che sta versando, gli vengono riconosciuti come aggiornamento sulla pensione? Allora, intanto è una dipendente privata? Beh, privata, Inps. Ok, non è una dipendente del comparto pubblico, non lavori in un ente pubblico? No. Perfetto. Allora, diciamo che ci sono alcune accortezze di cui tenere conto. Seviglia, ma al quadro chiaro, io gli lascio la parola, sempre tenendo conto che poi la posizione andrebbe sviluppata nel particolare rispetto alla posizione assicurativa. Ma secondo me la signora è molto vicina al diritto a pensione, nel senso che col prossimo triennio potremmo già valutare. Ma qual è la percentuale di invalidità che ha, tanto per avere l'ultimo elemento? Alla 104, quindi al 100%. Ok, quindi abbiamo anche una maggiorazione di tipo contributivo che potrebbe consentirle di anticipare… Sì, quella di connessi, mi sembra ogni anno? Esatto, esatto. Quella è importante perché nel momento in cui devo costruire il requisito contributivo importa molto sapere se ho quella maggiorazione. Quindi il consiglio che io le do alla chiusura del mio intervento è quello di andare presso l'Inca a fare una rivalutazione come dire attenta per capire qual è il momento giusto per costruire il diritto alla pensione di anzianità se 39 sono i contributi. Invece a William faccio dare un po' come dire l'ordine di grandezza legato alla convenienza di effettuare una scelta piuttosto che l'altra, che però dipende anche un po' dal punto di vista economico perché se devo sommare pensione e lavoro quando posso certamente ha un interesse dal punto di vista economico. Certo. Allora, qui ci sono diverse cose in campo. Allora, intanto non c'è bisogno, la domanda che lui poneva, di un'ulteriore visita. Se alla scadenza del triennio nel 2020 ha fatto la richiesta di rinnovo dell'assegno e IMS ha già fatto la verifica, anche se non hanno ancora detto nulla dovrebbe essere di fatto confermato perché se la risposta fosse negativa avrebbe già avuto la revoca dell'assegno. Quindi il prossimo traguardo che noi avremo sarà nel 2023, quando è scaduto il secondo triennio, si porrà poi la necessità di valutare se converrà o meno chiedere la conferma definitiva, nel senso che se rimane invalida non deve più fare richiesta di rinnovo, oppure valutare se nel frattempo si è arrivati al diritto o se convenga sospendere comunque l'erogazione dell'assegno ai fini del diritto alla pensione anticipata. Perché se ha 39 anni e da qui al 2023 possiamo arrivare al diritto alla pensione anticipata e in questo caso potrebbe convenire non chiedere più il secondo rinnovo, ma sospendere l'assegno appunto e andare in pensione anticipata, perché l'assegno non lo si può trasformare in pensione anticipata. C'è però un'altra, una seconda fattispecie che potrebbe essere interessante, che è quello della pensione anticipata di vecchiaia. Visto che gli è stato riconosciuto il 100% di invalidità, oltre alla 104, rimane sempre la possibilità di chiedere la pensione di vecchiaia anticipata se uno è invalido almeno all'80%. L'80 e il 100 non sono valutazioni identiche, non possiamo mettere a confronto i due numeri, perché sono criteri diversi di valutazione, però uno che è già al 100 è molto probabile che possa ottenere anche questo. In questo caso avrebbe anche già l'età per chiedere la pensione anticipata. Quindi la valutazione andrebbe fatta A, tenendo conto delle intenzioni di prosecuzione o meno dell'attività lavorativa. Se io nonostante l'invalidità mi sento e desidero comunque continuare a svolgere un'attività lavorativa, tanto vale arrivare alla fine della scadenza dell'assegno e valutare poi in quel momento il da farsi. Se uno invece comincia a dire ma io sono stanco, non ce la faccio più, faccio fatica a lavorare, quindi voglio valutare un'altra opportunità, quella della pensione di vecchiaia anticipata è uno scenario abbastanza raggiungibile. Fermo restando comunque che anche se rimango titolare dell'assegno, avendo continuato a versare contributi, questi sono utili poi ai fini di un supplemento. Quindi ogni 5 anni io posso chiedere l'aggiornamento della pensione aggiungendo all'importo base anche gli ulteriori contributi versati. Quindi come Cinzia suggeriva, qui è bene fare una valutazione precisa, tenendo presente appunto tutta la storia contributiva, per valutare anche dal punto di vista economico, quale può essere la strada migliore da perseguire. Sì, diciamo che per la vecchiaia in deroga devo tenere presente che la contribuzione deve essere da lavoro dipendente o comunque devo avere il requisito alla propria di vecchiaia, però in questo caso io gli consiglio di fare proprio un passaggio al patronato più comodo per verificare quali sono le condizioni generali di quell'aspetto. Ci fermiamo qualche minuto per la pubblicità, ci vediamo tra poco. Riprendiamo la diretta e sono arrivati diversi messaggi, William, questo è l'altro come dire grosso blocco di stasera di cui tener conto, perché il governo fa alcune considerazioni complessive sull'eventuale riforma pensione, come tu hai anticipato in apertura la quota 100 dovrà essere o probabilmente sarà superata perché ci sono alcune inflazioni, virgolette appunto, in particolare dal governo Lega perché insomma loro lo hanno un po' detto. Chiaramente qui ci chiedono quota 102, quelle che possono essere le alternative rispetto alla sostituzione di quota 100. Te lo faccio fare questo passaggio perché secondo me è importante la scomparsa di quota 100 in qualche modo produrrà degli effetti, poi magari non succede, adesso io non sono in grado di dare delle informazioni di tipo assoluto, però credo che chi si avvicina al requisito contributivo nel 2023 e quindi andrebbe con quella prestazione, è bene che sappia che cosa può eventualmente affrontare. Quindi ti lasciavo dare qualche indicazione sulla famosa quota 102 che dà un pochino di indicazioni anche ai soggetti che potrebbero utilizzarla appunto. Certo, allora intanto diciamo subito due cose, la quota 100 in qualche modo ha deluso parte delle aspettative su due versanti, uno abbiamo visto che dei soldi stanziati ne abbiamo speso un po' più della metà, quindi c'è stato un appeal di quota 100 non particolarmente entusiasmante, si pensava a numeri molto più alti, probabilmente il deterrente nel non poter svolgere nessuna attività lavorativa, assieme a tante altre cose ha concorso a questo scarso appeal dell'accesso a quota 100, ma soprattutto era l'altro collegamento legato a quota 100 e in qualche modo anche al reddito di cittadinanza per generare ulteriore occupazione. Lo slogan era fuori un pensionato dentro un giovane, sono usciti pochi pensionati ma sono entrati ancora meno giovani, anche causa Covid, ma comunque quota 100 per gli obiettivi che si era preposto è stato in qualche modo un fallimento. Purtroppo abbiamo anche dovuto verificare che quota 100 ha al proprio interno alcuni elementi sperequanti perché non consente a tutti di accedere al traguardo, di arrivare al traguardo nonostante sia una norma di natura generale, perché ci sono delle categorie che per la loro consistenza contributiva difficilmente riescono. Pensate agli edili, gli edili che hanno forse non tanto nel nostro territorio, ma in generale periodi di disoccupazione che non sono utili per fare i 35 anni, eccetera, eccetera, i quali quota 100 se la sognano, non riescono ad arrivare al diritto. Quindi è una prestazione che ha dato migliori tutele a dei lavoratori che in qualche modo erano già maggiormente tutelati rispetto ad altri o perché hanno lavorato di più, eccetera, eccetera. Se poi addirittura qualcuno aveva dei part time di natura ciclica o di natura verticale per cui non aveva coperto l'intero anno, anche in queste situazioni quota 100 se l'è scordata. Quindi quota 100 così com'è, io non ho dubbio alcuno, verrà sepolta, punto. Non la cremeremo perché non terreno neanche le ceneri, proprio sepolta. Ci sarà qualcos'altro? Non credo nemmeno all'ipotesi di quota o 41 o quota 102, ma con la logica di quota 100, cioè indifferenziata. Credo molto di più, e ormai la discussione come dicevo prima si sta orientando in questa direzione, che qualunque cosa si chiami, si chiami 102, si chiami 41, si chiami rendere strutturale, ape social, sarà qualcosa rivolto in particolare alle categorie deboli del mercato del lavoro. Lavoratori che perderanno il posto di lavoro anche a causa appunto della chiusura o della fine del blocco dei licenziamenti, lavoratori appunto invalidi che si continuano a lavorare a volte anche per necessità perché altrimenti non arrivano nessun traguardo e quindi anche a questi potremo avere un occhio di riguardo, chi assiste dei lavoratori o dei familiari disabili in determinante situazione o a chi svolge soprattutto lavori gravosi. Su questo ultimo capitolo c'è molta attenzione, quindi probabilmente anche le famose 15 categorie che abbiamo più volte ricordato che consentono di accedere ancora oggi ad ape social e alla pensione dei precoci potrebbero essere o meglio precisate o dilatate per ricomprendere meglio alcune figure. C'è ad esempio un disegno di legge in discussione in Parlamento un po' estemporaneo perché andrebbe collocato nel dibattito generale rivolto agli edili perché gli edili sono un'altra di quelle categorie che svolge un lavoro abbastanza significativo, solo alcune mansioni fanno parte delle 15 considerate gravose ma ci sono dei soggetti che oggettivamente dopo i 60 anni fargli andare su per dei pompeggi attorno ai fabbricati diventa complicato. Quindi io la vedo più in questa direzione e vedrete che secondo me questo sarà l'obiettivo che vedremo. Ti sbagli poco anche perché guardando un attimo anche tutte le situazioni che ci vengono come dire segnalate, anche un po' come dire brontolate, mettiamola così, uso questo termine per rendere un po' perché volendo molti lavoratori sentono la propria mansione gravosa, quindi interagire sulla gravosità forse ha davvero qualche interesse anche nella costruzione del diritto ad arrivare alla prestazione pensionistica prima di quanto eventualmente non fosse necessario. Il signore che prima ci ha posto quella richiesta in relazione al salario di 400-500 Euro ci manda il contratto, io però dal contratto ammetto che vedo un salario un po' diverso perché parla di un lordo e non di un netto, pertanto bisogna entrare un pochino più nel merito del contratto lordo perché questo contratto di cui lui ci manda come dire la fotografia è un contratto a tempo indeterminato pieno, cioè con un salario a 40 ore. Ovviamente questo copre senz'altro il mese contributivo e copre senz'altro le 52 settimane perché tra l'altro tra il salario e il lordo previdenziale William c'è una certa differenza perché le mettiamo insieme ma non sono da mettere insieme, sono due valori diversi proprio. Sì, sì, infatti. Allora, in questo momento del 2021 per avere la copertura integrale delle 52 settimane serve un salario lordo, imponibile previdenziale, di 10.725 Euro. Questo è il minimale su base annua raggiunto il quale io posso garantirmi la copertura delle 52 settimane. Ho lavorato tutto l'anno, tutte le settimane sono retribuite, se ho percepito quella retribuzione ho coperto l'intero anno. Bisogna stare appunto attenti ai valori perché il lordo imponibile contributivo è una cifra, il lordo imponibile fiscale è un'altra, il netto che spesso i lavoratori ci propongono per capire a quanto ammonterà la pensione in rapporto al netto tradisse poi delle situazioni anche individuali che spesso incidono su quel risultato finale. Quindi bisogna sempre che noi partiamo dall'ordo. Quando ci ponete certe domande di un certo tipo bisogna che sia quello il parametro di riferimento, altrimenti non riusciamo a comprendere esattamente che cosa viene fuori. È importante. Allora è arrivato un messaggio complesso, io lo leggo nella sua parte ma qui necessita davvero di entrare un po' più con in modo articolato all'interno della posizione perché qui si dice che una ragazza giovane ha perso il lavoro per rispetto dell'assistenza al genitore che ha avuto un problema di salute molto consistente, che ha previsto un ricovero adesso è a casa ma ovviamente presumibilmente questo parente stretto ha necessità di essere assistito e quindi questa ragazza non può per il momento iniziare un'attività lavorativa o non può proseguire la precedente. Allora intanto una volta che io ho perso il rapporto di lavoro devo attivare gli eventuali ammortizzatori sociali sempre che io ne avessi diritto. E quando è che lo devo fare? Lo devo fare entro 60 giorni da quando il rapporto di lavoro è cessato, in realtà sono 68 ma insomma teniamo i 60 giorni per non perdere eventualmente il diritto alla prestazione dell'ammortizzatore sociale. Dopodiché vanno costruite le protezioni a favore del soggetto invalido ed eventualmente la costruzione di alcune protezioni economiche che possono fornire regione, comuni a caduta e in alcune circostanze se parliamo di dipendenti pubblici o ex dipendenti pubblici ci sono protezioni aggiuntive anche all'indennità di accompagnamento. È chiaro che se abbiamo perso il lavoro non riusciamo a chiedere come dire il congedo straordinario che mi consente di avere il salario per altri due anni, però io le consiglio di fare un salto all'inca più vicina per vedere se c'è modo di costruire qualcosa di alternativo. Poi William speriamo quest'anno di vedere la luce al famoso bonus per chi si occupa appunto dei soggetti fragili, ne hanno parlato tanto, ci sono delle novità ma io non credo, credo che abbiano solo uno stanziamento economico a favore dei... No, infatti anche nell'ultima manovra di bilancio noi abbiamo stanziato delle risorse a favore di un fondo al quale potremo accedere per interventi genericamente definiti a favore dei caregiver ma che però finora non hanno nessun provvedimento attuativo. Cioè abbiamo solo detto bene, una fetta delle nostre risorse la teniamo lì da parte, tutto è da costruire per cui c'è chi ragiona su interventi economici di sostegno alla famiglia, c'è chi ragiona di riconoscimenti contributivi a favore dei lavoratori che assistono familiari disabili ma sono ancora tutte cose scritte nell'aria di cose concrete e non ne abbiamo di nessuna natura. L'unica cosa alla quale con qualche certezza noi possiamo accedere a questa, al di suggerimento che Cinzia diceva, se ho una certa anzianità alle spalle e ho diritto alla Naspi, ovviamente tutelarmi per la Naspi per il periodo che può essere erogato, fino al massimo comunque di due anni come la norma prevede, però c'è una agevolazione fra virgolette che è concessa in caso di questa natura che è quella di poter essere assunti dalla persona disabile, cioè normalmente nei rapporti di lavoro dipendente uno non può assumere il figlio, la moglie, il marito, è vietato il rapporto fra parenti, ma nel caso di soggetti disabili con handicap grave 104 è possibile anche questo e in questo caso con una spesa relativamente bassa uno che ha dovuto abbandonare l'attività lavorativa per dedicarsi a un'attività di cura può in qualche modo proseguire un'attività lavorativa, costa molto meno di quanto non costerebbero ad esempio i versamenti volontari, i versamenti volontari hanno un minimo di versamento molto elevato che spesso non lavorando non si è in grado di sostenere, quel costo invece assicurativo nell'ambito di un rapporto di collaborazione familiare potrebbe essere una delle tutele eventualmente da mettere in campo. Bene, ne prenderemo considerazione e vediamo che la signora faccia riferimento. Prendo la chiamata che c'è in linea, pronto? Sì, pronto? Buonasera Buonasera, mi scusi se la disturbo, io volevo un'informazione, io ho presentato la domanda come precoce il 7 di gennaio e non ho ricevuto ancora nulla, volevo sapere i tempi. Allora è tutto normale, grazie a lei della domanda, nel senso che le risposte arriveranno per tutti nel mese di giugno, quindi al di là del fatto che io l'abbia fatta il 7 di gennaio piuttosto che il 28 di febbraio, la risposta arriva comunque a giugno, è chiaro che prima l'ho fatta, meglio è perché lo stanziamento è uno stanziamento prefissato e quindi, ma prima di giugno lei non vedrà la luce di nulla, poi andrà costruito il diritto a pensione perché se è un già cessato, presumibilmente è opportuno avere già anche fatto la domanda di pensione, immagino che il patronato l'abbia così gestita, ma direi che lei è ancora leggermente distante temporalmente, anche se sul portale dell'Inps vedete che accolta se rientra fra gli ammessi, perché se rientra fra gli ammessi è la valutazione per, come dire, verificare la chiusura del conteggio complessivo nazionale per vedere se i soldini appunto sono ancora disponibili, questo è un po' come dire il passaggio, quindi ci aggiorniamo tra qualche settimana direi. Doveva esserci un'altra chiamata in linea che prendo se c'è ancora? Pronto? Pronto? Sì, buonasera, dica pure. Buonasera, senta volevo chiedere una cortesia, un'informazione, è una situazione un po' complessa, cioè sarebbe dire nel 2001 ho avuto una malattia professionale, dopo di ciò nel 2003 ho avuto un infortunio che mi sono rotto una gamba e poi hanno fatto dei punteggi tra la malattia e l'infortunio mi hanno dato una rendita, una rendita a vita. Ora mi sono aggravato con altre patologie che sono diventato poi poliallergico e mi hanno fatto l'invalidità civile, mi hanno dato l'invalidità civile. All'inizio al 50% e poi da poco tempo mi hanno dato il 75% più di due cose perché sono tutti divisi, l'incidente, ci sono varie cose divise, rischio di perdere qualcosa? No, allora non rischia di perdere niente, purtroppo se ha questa complessità di riconoscimenti è perché gli istituti in questo caso hanno valutato che c'è una complessità di patologie che possono coesistere. Ci sono alcune implicazioni rispetto all'assegno di invalidità IMS che potrebbe ridursi in funzione della rendita INAIL, però chi le ha fatto le domande dovrebbe aver tenuto conto di tutti questi passaggi, quindi alla fine lei prende anche la pensione IMS a segno ordinario di invalidità o la prende ridotta quella? No, la prendo piena, 515 non piena. Quindi è intera, ok. Allora direi che hanno fatto una valutazione complessa ma che probabilmente compatibilizza tutti gli elementi sanitari per avere due situazioni di rendita, una è la rendita INAIL che è quella riconosciuta dall'infortunio. Ma non è tanto l'INAIL, è l'IMS che potrebbe porre un problema sulla parte legata a INAIL, ma se non l'hanno fatto e la rendita, quella IMS intendo, quindi quella da contributi, la prende non da qualche mese ma da un po' di più, vuol dire che hanno già fatto anche le verifiche delle patologie. Sì, perché anche quasi ho fatto adesso l'ultimo posto, dopo 9 anni, 3 volte l'ultima visita. Quindi è tutto corretto secondo me, adesso glielo faccio dire anche da William perché ci mancherebbe altro, però lei da questo punto di vista niente ci mancherebbe. Grazie. Deve stare tranquillo, purtroppo ha una serie di sfortune che sono compatibili William e qui gli studi hanno interagito direi, quindi glielo proviamo a ridire. Evidentemente la situazione INAIL è, come lui dice, cristallizzata, nel senso che le rendite sono rivedibili, quelle da infortunio non oltre 10 anni, quelle da malattia professionale non oltre 15 anni, ma in entrambi i casi sono passati i termini, quindi non dovrebbe essere più rivista per la parte INAIL. In questo caso, fra l'altro, essendo un danno da lavoro preesistente, dialoga con l'assegno ordinario di invalidità per quale motivo? Perché le patologie che sono insorte successivamente e che da sole o magari anche con il concorso dell'INAIL hanno determinato la insorgenza dell'invalidità fanno sì che la cosa è compatibile. Non è compatibile quando c'è già un po' di patologie, si aggiunge un danno da lavoro che è determinante per il diritto all'invalidità. In questo caso, allora, le due cose sono incompatibili. Non c'è niente invece che crea ostacoli per quanto riguarda sia l'invalidità civile, perché in questo caso legge solo le patologie che non derivano da lavoro, quindi quel 50 che è diventato un 75 è per le patologie extra lavorative, quindi fuori dall'infortunio e dalla malattia professionale, mentre l'handicap grave chiaramente legge la condizione fisica del soggetto nel suo insieme, di qualunque natura siano le patologie, che dà diritto eventualmente ai benefici 104 con tutto quello che è correlato. Quindi credo che lei possa dormire sonni tranquilli, non ci sono problemi di nessuna natura. Purtroppo ne ha dei problemi, ma li ha avuti riconosciuti, questo non è poco, devo dire la verità, perché nella compatibilità è abbastanza complesso. Ci fermiamo qualche minuto per la pubblicità, ci vediamo. Riprendiamo la diretta e la riprendiamo naturalmente con i messaggi da casa che stasera sono stati, come dire, prevalenti. Voglio fare solo un riassunto, sono collegata da casa ma sto benissimo, sono solo in attesa di un tampone di controllo perché abbiamo avuto un contatto con una persona positiva, quindi abbiamo il tampone e abbiamo tenuto le distanze, come dire, corrette anche nei confronti dei colleghi di Telereggio. Qui abbiamo una domanda riferita a Viglia, ma il ragionamento che abbiamo fatto prima nell'assistenza del familiare che può essere utilizzato come collaboratore familiare per l'assistenza. Il telespettatore ci chiede, è necessaria la condivenza? No, 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 assolutamente. Cioè, basta che si dichiari che quella è la persona che mi assiste e io la posso assumere nonostante l'affinità o la parentela molto stretta, quindi è una deroga il principio generale. Non si necessita che abitiamo insieme da questo punto di vista. Sì, sì, sì. No, non c'è problema. Perfetto. È corretto perché poi sono domande che sembrano non particolarmente importanti ma in realtà lo sono e quindi è bene mettere in evidenza. Qui nasce invece una domanda che mi interessa prendere in considerazione perché abbiamo parlato e si parlerà sempre più spesso di precoce piuttosto che di categorie fragili. Qui abbiamo un soggetto che non aveva, credo, l'anno di lavoro prima dei 19 e quindi dice posso pagare dal punto di vista del versamento volontario un contributo che costruisca l'anno di lavoro e che mi faccia acquisire la qualifica di precoce in questo caso. Adesso andrebbe verificata bene la posizione per i c'è adesso 37 anni contributivi, quindi bisognerebbe andare a collocare nel tempo esattamente la contribuzione. Però, insomma, lui dice io non ho lavorato, posso pagarli? Allora, ahimè no, o meglio, diciamo che l'unico modo che potrebbe ammettermi alla qualifica di precoce con un pagamento sarebbe quello di un riscatto a fronte di un'evasione contributiva. Io ho comunque lavorato prima di compiere i 19 anni, però il mio datore di lavoro non mi ha pagato i contributi. Se riuscissi a dimostrare tutto con i documenti di data certa, fare la domanda di riscatto all'Inps e venisse accolta, in questo caso, anche se sono soldi che pago io, sono a fronte di una attività lavorativa. Quindi qualunque altra copertura contributiva, che fosse il militare, versamenti volontari, contributi figurativi, non sono lavoro effettivo che mi fa attribuire la qualifica di precoce. La qualifica di precoce è a fronte del fatto che io ho lavorato un anno prima di compiere i 19, anche non continuativo. No, è importante, ma insomma è vero che in questa, come dire, costruzione del diritto del precoce sono state infilate tantissime nozioni, ma è l'effettivo lavoro, mi pare che sia, come dire, il concetto più importante assolutamente da rendere, ecco, da dire chiaramente, perché se no si rischia di fare davvero un pochino di confusione, non tanta ma un po' è sufficiente. Ti faccio questa domanda, perché anche qua sono arrivati due o tre quesiti analoghi, li racchiudo in un'unica domanda. Nel caso in cui opzione donna fosse prorogata, ci aspettiamo che ci siano dei criteri di tipo diverso rispetto a quelli che conosciamo fino ad ora? Ma l'unico che io mi potrei aspettare non è tanto sui 35 anni, quanto piuttosto sull'età anagrafica, perché in effetti 57 anni di età anagrafica è una bella distanza da quegli altri requisiti dove è richiesto di nuovo un requisito anagrafico. Pensiamo ad Ape Social, 63 anni, pensiamo alla pensione anticipata del sistema contributivo, 64 anni, pensiamo appunto anche alla quota 100, 62, 57 è un bel anticipo. Quindi potrebbe anche accadere che opzione donna venga prorogata, ma con una condizione anagrafica leggermente più elevata. Però è un'ipotesi, è l'unico ragionamento che dal punto di vista logico nei confronti con altre prestazioni mi viene da fare. Sulla storia dei 35 credo che invece potrebbe essere tranquillamente confermata. Anche perché poi, ripeto, fra l'altro, essendo calcolata col sistema interamente contributivo, in linea di principio c'è una penalizzazione implicita che compensa in qualche modo l'anticipazione pensionistica. Sì, diciamo che il calcolo in molti casi nel comparto pubblico è certamente deflettivo, mettiamolo così. Nel comparto privato stiamo vedendo degli strani scherzi, virgolette, delle posizioni assicurative, laddove i vecchi salari in un qualche modo si rivalutano in modo da rendere la posizione oggi più interessante e un calcolo più favorevole di quanto non ci aspetteremmo. Questo lo dico perché fondamentalmente, insomma, l'abbiamo visto e lo stiamo vedendo. Quindi non date per scontata che la posizione, che sembrerebbe una posizione non, come dire, positiva, in realtà non lo sia, perché non è detto che non lo sia. Potrebbe esserlo davvero, perché, insomma, abbiamo davvero visto alcune situazioni che si sviluppano in maniera positiva anche oltre le aspettative. Ti faccio invece, William, se non ci sono chiamate ma non me ne hanno segnalate, direi che non ci sono. Una domanda specifica sul tema, perché arrivano moltissime richieste di valutazione dei riscatti di laurea. Sembra un altro di quei temi che ha catalizzato l'attenzione dei giovani soprattutto, ma non solo. E sono tutti molto curiosi di costruire il diritto a pensione, sulla base appunto dei riscatti agevolati, perché con la nuova modalità hanno un costo inferiore. Lascio la tua, come dire, mano di esperto nel dare qualche informazione di questo genere, perché, insomma, è importante il riscatto di laurea, ma non è che sempre, sempre ci dia la sensazione di costruire qualcosa di davvero necessariamente positivo, ecco. Certo. Allora, io lo dico questo perché mi sono già capitate diverse posizioni individuali di soggetti i quali, pur riscattando la laurea, non riescono comunque ad anticipare il trattamento pensionistico. Cioè io potrei, ad esempio, aver impiegato 7-8 anni a laurearmi per una serie di motivi quando il corso di laurea era solo di 4 anni, e quindi ho cominciato poi a lavorare in età abbastanza avanzata, e quindi con dei buchi contributivi anche significativi, per cui recuperare o meno quei 4 anni di laurea diventi irrilevante. Investo solo dei soldi per avere un leggero incremento di pensione, e quando il riscatto fosse funzionale solo a questo obiettivo, io ho sempre manifestato fortissimi dubbi sull'efficacia di questo riscatto. Diverso è sempre il caso in cui un soggetto si è laureato nel tempo normale, previsto per la durata legale, i 5-4 anni quelli che sono. Appena laureato ha cominciato a lavorare, quindi ha anche una storia contributiva, che nella prospettiva ovviamente che tutti ci auguriamo di continuare tranquillamente a svolgere attività lavorativa, potrebbe portarmi ad anticipare appunto il pensionamento. Ovviamente tutto valutato a norme vigenti, non possiamo immaginare ciò che il legislatore farà fra 10 anni. Io parto sempre dal presupposto che la convenienza al riscatto appunto è quando abbina questi due fattori. Mi incrementa sì la misura della pensione, ma soprattutto mi consente di anticiparne l'accesso. Quella è la chiave di volta che secondo me rende compatibile un riscatto. Dopodiché però, attenzione, perché se parliamo di giovani che hanno frequentato l'università da quando si sono iscritti in avanti, tutta dopo il 1995, qui problemi non ne abbiamo di nessuna natura, nel senso che debbo solo scegliere, visto che oggi presumibilmente sto lavorando, se preferisco pagare il 33% della mia attuale retribuzione, esempio, ho 30.000 euro lordi, pago 10.000 euro per ogni anno di riscatto, oppure pagarlo sulla base di quel riscatto agevolato che mi costa poco più di 5.000 euro l'anno. Visto che l'incremento non è così importante, in questo caso se è significativa la necessità di coprire un periodo per anticipare la pensione, tanto vale spendere il minimo indispensabile. Ovviamente stiamo sempre parlando di regole in termini generali, poi ci sono sempre delle cose particolari, individuali, che vanno valutate. Diverse invece è quando, e qui ci siamo già trovati di fronte a tanti lavoratori che vorrebbero compiere questo percorso, sono soggetti i quali hanno avuto la laurea e cominciato a lavorare prima del 1996, quindi erano già iscritti prima della riforma Dini, i quali sono nel sistema misto e se vogliono riscattare la laurea in condizioni normali spesso e volentieri costa tanto. Se io volessi invece fare il riscatto agevolato debbo transitare per delle operazioni, una delle quali si chiama opzione per il sistema contributivo, che a volte potrebbe significare perdite anche significative di prospettive pensionistiche. Poi è chiaro che per una generalità media di lavoratori che hanno retribuzioni che sono più o meno nella media, questo problema non si pone, ma se uno è già inquadrato a dei livelli alti di retribuzione o ha la prospettiva di fare carriera e di diventare anche un dirigente di azienda, bisogna sempre mettere in conto che cosa significa optare per il contributivo. Perché vi faccio di nuovo un esempio con dei numeri. Se io oggi fossi un dirigente a 200.000 euro e sto pagando i contributi su 200.000 euro, io e il mio datore di lavoro, e volessi invece optare per il sistema contributivo, dal mese prossimo io non pagherò più su 200, pago su 103.000 euro, quindi dimezzo il mio montante futuro. Per cui spendo meno a riscattare la laurea, ma metto un'ipoteca pesante sul mio futuro pensionistico. Queste sono tutte valutazioni che vanno fatte, ribadisco, in capo alle persone. Quindi possiamo creare qualche blocco di problematiche, laurea prima, laurea dopo, cominciate a lavorare prima, cominciate a lavorare dopo, ma la soluzione finale va sempre ricercata in campo alla singola persona. Quindi non fidatevi anche di quegli strumenti che l'Inps pur positivamente ha messo in campo che consentono di fare le valutazioni dei costi di non riscatto. Prima di decidere di fare domande, ma soprattutto prima di decidere di pagare o di fare certe scelte funzionali alle domande, informatevi, informatevi, informatevi. Perché di fregature sul campo previdenziale ce ne sono tante, con le quali si incappa involontariamente, non conoscendo il quadro generale. Questo è un rischio che qualche volta accade, nel senso che è vero quello che tu dici. Rispondo solo rapidamente ad un messaggio di una signora che ci chiede se la patologia di cui è effetta la propria ragazza rientra tra quelle che consentono l'eventuale diritto alla normativa sull'accesso a precoci, non c'è una patologia, c'è un riconoscimento e c'è un riconoscimento legato alla legge 104, se non ci saranno modifiche di alcuna natura. Quindi l'importante è che questa ragazza faccia eventualmente la richiesta di invalidità, anche solo la 104, se non vuole fare la domanda di invalidità civile, perché non vuole entrare nel meccanismo delle revisioni, anche legate magari alla patologia stretta. Sarebbe meglio per n motivi, ma eventualmente lo si spiega allo sportello nel momento in cui si fa la domanda, perché la 104 mi consente di entrare nel percorso dell'accesso ai precoci, così come all'eventuale app e social dove fosse eventualmente prorogato. Quindi consiglio di fare la domanda. Ci fermiamo per l'ultimo blocco pubblicitario, ci vediamo tra qualche minuto. Riprendiamo la diretta, resta ancora una manciata di minuti, ma pochi davvero, per la chiusura di stasera. Abbiamo utilizzato una modalità di lavorazione particolare stasera, grazie per la pazienza anche da casa di averla seguita. William è stato non utile, utilissimo, nel senso che siamo entrati un po' nel merito di alcune situazioni importanti da mettere in evidenza. Crediamo che sia importante svilupparle, perché anche la particolarità rispetto all'opzione al contributivo è stato giusto dirla in quei termini, perché non è così semplice. Dire opto al contributivo e poi va tutto bene, non sempre. Ci sono degli aspetti che chi si occupa di questa materia deve assolutamente rendere noto, perché è importante nella valutazione anche del calcolo di pensione. C'è un grande interesse a quello che potrà accadere sulla finanziaria 2022, ma faremo in tempo a parlarne, perché prima ci aspettano due temi importanti. Il primo è la riforma degli ammortizzatori sociali, che ci aspettiamo, perché poi anche sulla base dell'apertura del divieto dei licenziamenti, che presto o tardi dovrà venire a mancare, succederanno delle cose, quindi la riforma degli ammortizzatori è importante. L'altro aspetto che mi preme dire stasera è che l'assegno unico, il cosiddetto assegno unico di cui hanno parlato in tanti, non è ancora operativo, non è stato costruito, non ci sono gli elementi, ma è importante che voi facciate il modello ISEE, perché l'ISEE sarebbe teoricamente quell'elemento che serve a costruire il diritto all'assegno unico, che dovrebbe essere una cifra, una tantum per i figli, pare fino a 21 anni, ma vedremo come viene allargato, perché anche qui voi sapete che quando una norma viene costruita viene poi modificata, anche sulla base degli stanziamenti economici, quindi non c'è ancora una norma sull'assegno unico, non esiste la possibilità di fare la domanda, però l'ISEE bisogna che lo facciate, perché quello è un elemento significativo per poter eventualmente fruire della richiesta appunto della famoso assegno unico che mi consentirebbe di avere questo beneficio di tipo economico. io William ti ringrazio perché stasera è stato complicato, ma insomma abbiamo utilizzato una modalità di viaggio diversa, l'abbiamo provata, io lunedì prossimo vorrei tornare in studio con il mio tampone fatto e felice, perché io poi sto bene, ma insomma è stato corretto non muoversi in alternativa così e quindi stasera sono stata collegata da casa, ma va tutto bene. Silvano per la stessa ragione non era presente, ma non potevamo collegare entrambi, quindi noi ci aspettiamo lunedì prossimo di tornare nelle postazioni della settimana consueta che ci consente di, quindi intanto ti ringrazio e ti saluto, ringrazio anche la regia Paola Ronzoni e Antonio Lavacondio e a voi invece dico due cose rapide, per accedere al patronato noi siamo presenti nonostante la zona si sia aperta, quindi non è più una zona rossa o una zona arancione scura, non venite senza appuntamento, non fatelo se non avete un accesso autorizzato dall'operatore, ci siamo, con pazienza rispondiamo a tutte le mail, arriviamo davvero da tutti, dovete solo avere un attimo di pazienza in più perché è assolutamente necessaria per noi nella gestione. Vi ringrazio tantissimo e vi do l'appuntamento a lunedì prossimo sempre in diretta, sempre alle 9. Buona serata a tutti. i diritti in diretta in collaborazione con CGL Inca Teorema